Stoffe in disuso, bottoni e cartoncini utilizzati per realizzare colorati adobbi natalizi fai-da-te che verranno esposti nelle prossime settimane nelle vetrine di 20 attività commerciali della città di Chieti. I protagonisti delle curiose creazioni non saranno però artigiani di mestiere, bensì i detenuti della Casa Circondariale di Chieti che hanno partecipato all'odevole progetto Natale 2016, vetrina dal carcere, lanciato da Confcommercio Chieti in collaborazione con la Casa Circondariale Teatina diretta da Giuseppina Ruggiero. I lavori del laboratorio formativo sono stati coordinati attraverso l'impegno profuso da Stefania Basilisco, capo area educativa della Casa Circondariale. L'iniziativa è stata molto allettante per noi perché dà la possibilità di realizzare qualcosa di concreto ai detenuti, non solo perché ovviamente hanno utilizzato il tempo della pena in maniera costruttiva, ma perché la cosa dà proprio l'opportunità di ristabilire un patto di cittadinanza in termini positivi attraverso un oggetto che è come se iniziasse, ricominciasse un rapporto, un rapporto di civiltà. Sono rimasta piacevolmente sorpresa dall'entusiasmo mostrato dai detenuti che hanno accolto la nostra iniziativa. Così Alessandra Costantini, commissario capo e comandante della Polizia Penitenziaria. Mi ha fatto molto piacere il fatto che abbiano risposto positivamente ad un progetto che per noi rappresenta tantissimo. In realtà rappresenta un braccio che la società esterna allunga verso il carcere, e quindi verso la condizione di coloro che hanno infranto delle regole e che in qualche modo devono rimettersi in gioco e prepararsi per la riuscita.